Sono usciti alle 17.30 di oggi pomeriggio dalla sede della onlus fanese Africa Milele i cinque agenti del ROS provenienti da Roma su incarico della procura romana nell'ambito dell'inchiesta a carico di ignoti sul sequestro di Silvia Romano avvenuto a novembre del 2018 in Kenya dove la giovane milanese si era recata per prestare la sua opera di volontariato. I carabinieri sono arrivate alle 9 di questa mattina davanti alla sede fanese dell'associazione per acquisire documentazioni per verificare le condizioni di sicurezza in cui si trovava la volontaria al momento del rapimento e anche per verificare le attività della onlus. Alla loro uscita gli agenti bocche cucite non hanno dato nessun particolare sulle lunghe ore trascorse all'interno dell'abitazione di Liliam Sora la presidente dell'Africa Milele che al momento non risulterebbe indagata. Assieme agli agenti del ROS era presente anche il consulente informatico incaricato che ha effettuato copia della memoria di un computer e di due telefonini. Dopodiché sono montati in macchina e hanno fatto un ritorno a Roma.